Abbiamo in linea Anna Di Soccavo. Anna, a chi vuoi dedicare la prossima canzone? Innanzitutto la dedica a mia madre, che proprio oggi compi 75 anni. Auguri vivissimi da parte di tutto lo staff di Radio Secondigliano City. E poi la voglio dedicare alla signora Rita Guardascione, la cui mamma buonanima venne a mancare proprio di questi giorni, l'anno scorso. Condoglianze posticipate alla signora Rita Guardascione. Poi la dedica alla signora Carmela Delicuri, al marito di ragionire Alfonso, ai figli Antonietti, Peppini, Immacolati e alla piccola Debora. Poi la dedica alla famiglia Giannattazio al completo. E precisamente a nonno Gaetano, a nonna Amalia, a zio Cire e a zia Teresa, ai genitori Carmine e Dolores Giannattazio e ai piccoli Vittori, Adelaide e Peppe e all'ultima nata Raffaella. Poi un abbraccio circolare a tutti i condomini di via Mindurno 14. E precisamente al cavaliere Ottavio Improto con la moglie Caterina, alla cognata Teresa e ai piccoli Anna Rita, Luigina e Timona. Poi ancora alla signora famiglia Costabile, in particolare a Enza, a Maria col piccolo Peppino. Poi la dedica ancora a mia cognata Marina, con i figli Luca e Alfonsino. A mamma Rita, papà Luigia e famiglia. A Nicola di Pianuro con i figli di Piazza. A Nicola di Pianuro con i figli 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 di Pianuro. Grazie a tutti.